Ciao ragazzi! Ok, siamo alla stazione di Livorno Centrale Allora dove sto andando? Sono in partenza per un corso, scusate il vento, aspettate che mi giro Per un corso con Marianna Santoni, conoscete Marianna Santoni? Non la conoscete? Dovreste conoscerla È una delle più conosciute, diciamo, esperte di Photoshop, ma anche una davvero molto, molto, molto brava fotografa E oggi sono in direzione Foligno proprio per andare da lei a fare un corso di luce in studio Quindi pronti, si parte, via! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono su Doveremo, oltre Firenze Un interno in portà, Firenze e Santa Maria Novella Terminato il corso del terreno Ok ragazzi, scusate il caos Qui dietro a me, stazione di Foligno Dopo non so quante ore di viaggio, 5, più o meno 5 e mezzo Siamo arrivati adesso direzione Hotel Villa dei Platani Ragazzi qua piove e fa freddo, freddo, freddo Ecco qua Villa dei Platani Proprio di fronte alla stazione, per fortuna Quindi dovrebbe essere semplicissimo A dopo! Signori, ecco a voi la camera Servizio fantastico Vediamo il bagno Et voilà! Bagno, wow! Bell'hotel, davvero Davvero un bell'hotel Cameretta Alle mie spalle Tata TV Sky Internet gratuito Frigo Bar gratuito E che voglio di più della vita? Bene, che voglio dirvi ragazzi Il viaggio è stato lungo, però è passato bene Adesso non vedo l'ora di andare a cena Perché ho una fame che muoio Ma soprattutto non vedo l'ora di essere domani mattina Per iniziare il corso con Marianna Ci vediamo a cena Ciao belli! Ok ragazzi, ci siamo Sono pronto per andare a cena Dove? Boh, ancora non lo so Ma spero che il portiere abbia dei buoni consigli per me Siamo a Foligno ragazzi Città deserta ma sempre molto affascinante Centro storico Stiamo andando verso il ristorante Il Cavaliere Super consigliato Andiamo a vedere di che si tratta Fa freddo, per fortuna ha smesso di piovere Però non me l'aspettavo così ecco Molto 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 accogliante Molto carina Molto simile alla Toscana Molto molto simile Wow Ho cenato Ristorante Il Cavaliere Fantastico Ho speso poco Ho mangiato benissimo C'era veramente tanta gente Però sono stati super veloci Mamma mia Ottimo, ottimo, ottimo Adesso Andiamo piano piano verso l'albergo Così digerisco tutto quello che ho mangiato E Per fortuna Non sta pievendo Ma vediamo se riesco a passare davanti al palazzo Oh wow Giusti Guardate qua Buongiorno ragazzi Ci siamo È venerdì mattina E siamo pronti Guardate che figo questo sperchio Guardate che figo questo sperchio In granditore Mamma mia Questo Questa stanza è davvero bella Ci siamo ragazzi Stamattina Inizia il corso Alle Dieci meno un quarto Adesso sono le otto E Venticinque circa Scusate le nove E un quarto circa E Niente Metto a posto Raccolgo Tutti i miei ciotolini Come si dice in Toscana E usciamo verso palazzo Giustini Mi sembra che si chiama Dovrebbe essere vicino Dieci minuti Cinque minuti Dieci minuti a piedi Non di più Quindi farò veloce Adesso Chiudo la valigia E andiamo Per adesso Soggiorno in hotel Buono Sono otto Ho dormito malissimo Non per colpa dell'hotel Ma per colpa di quanto Ho mangiato ieri sera Restonante Buonissimo Solo che ho davvero Esagerato Stanotte ho visto i mostri Ci vediamo dopo Al corso Con Mariana Santoni Buonissimo Buonissimo Wow Finalmente No Finalmente no Il corso è finito È andato molto bene Molto molto bene Mi è piaciuto un sacco È sempre un'ottima occasione Per Condividere Fare un po' di networking Prendere contatti Conoscere i colleghi Confrontarsi Parlare Discutere Fare domande Imparare cose nuove E poi Mariana Santoni È sempre molto carina Molto disponibile Molto molto interessante Sono sfinito Adesso mi aspetta Un'altra sei ore Per tornare a casa In un comodo treno Affolatissimo Speriamo che sia meglio Dell'andata Ma Ci accontentiamo Come potete vedere Il treno alle mie spalle È vuoto Wow Siamo quasi a Firenze Ce l'ho distrutto Davvero Davvero stanco Il treno è chiuso ragazzi Andiamo verso binario 3 Stazione di Firenze C'è il desert Come potete vedere Ho Che Dai Grazie per la visione